buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è lunedì 3 giugno 2024 inizia una settimana cruciale per quanto riguarda la campagna elettorale che terminerà sabato sabato prossimo quando inizieranno le elezioni si comincerà a votare ci sarà comunque una giornata di silenzio che dovrà costituire un po un diaframma tra tante parole che sono state pronunciate in questi ultimi giorni e l'iniziativa che passerà agli elettori quindi sarà una settimana certamente convulsa piena di iniziative piena di presenze dei candidati che cercheranno di così valorizzarsi il più possibile nei confronti dell'elettorato e noi li seguiremo li seguiremo fino all'ultimo perché poi la composizione della prossima amministrazione comunale dovremmo tenercela per altri cinque anni quindi è una cosa importante e allora come sempre noi iniziamo la giornata iniziamo anche la nostra rassegna stampa a partire dall'almanacco del giorno e vediamo che si festeggia oggi eccolo qua l'immagine si tratta di carlo luanga e dei suoi 12 compagni siamo in africa ebbene anche molti africani hanno dato la loro vita per la testimonianza della loro fede tra loro c'è anche carlo luanga nacque nel 1865 nel regno di buganda che oggi fa parte della uganda fu convertito al cristianesimo dai missionari fondati dal cardinale charge la vergerie considerati però una minaccia dal re di quella regione si chiamava muanga era muanga secondo mentre il padre era tollerante muanga secondo invece fu un persecutore dei cristiani sia dei missionari che dei suoi compaesani connazionali che si erano convertiti i quali furono massacrati e carlo era il capo dei paggi della corte reale ma continuando a professare la sua fede fu condannato al rogo e bruciato bruciato pensate insieme ai suoi 12 compagni fu martirizzato ecco perché la chiesa ricorda con devozione carlo luanga e i suoi 12 compagni ed ora passiamo alle previsioni del tempo e il tempo si imbruttisce oggi sulla regione marche ci sarà un tempo instabile con un passaggio di rovesci e temporali anche forti anche forti nel pomeriggio specie nelle zone interne migliorerebbe il tempo in serata i venti sulle coste espireranno da ovest nord ovest nell'interno da ovest la temperatura la temperatura passa dai 16 gradi della minima ai 22 della massima il mare è leggermente mosso il sole è sorto alle 5 e 27 e tramonterà alle 20 e 43 questa è un po la previsione della giornata di oggi allora cominciamo ad aprire i giornali vediamo la prima pagina del resto delle carlino con il sunto delle notizie in tutte le cinque province delle marche vediamo subito quella di pesaro la notizia principale è incentrata sul ritorno di don giacomo ruggeri lo giacomo ruggeri ritorna dopo 12 anni ritorna accolto dalla comunità ecclesiale artefice di questo ritorno è stato il vescovo andrea andreozzi il quale prossimamente lo destinerà a qualche incarico incarico che renderà noto insieme ad altri incarichi in una conferenza stampa che dovrebbe essere convocata nei prossimi giorni ebbene il resto del carlino lo intitola il prete dello scandalo ebbene sì sappiamo benissimo che don giacomo fu protagonista di una vicenda di una vicenda che poi lo costrinse a lasciare la sua parrocchia ed andare su nell'alta italia a pordenone comunque possiamo dire che anche l'atteggiamento della chiesa nei confronti di certe situazioni è cambiato moltissimo in questi ultimi tempi e possiamo dire che molti fanesi accolgono con spirito di simpatia e di accoglienza a don giacomo che ritorna nel suo territorio vediamo le altre notizie parliamo anche di economia imprenditori under 40 il comune rimborsa le tasse locali per incentivare le nuove imprese e quindi questi giovani potranno così ricevere un rimborso delle tasse pagate sono le tasse del comune ovviamente mentre da Pesaro ad Ascoli nelle piazze i tre giovani la Repubblica oltre alle cerimonie ieri era il 2 giugno la festa della Repubblica e anche nella prefettura Pesaro si è tenuta la cerimonia che omaggia coloro che si sono distinti nel loro lavoro nella loro vita sociale e quindi hanno ricevuto un'onoreficenza da parte della prefettura vediamo la pagina di Ancona Ancona si nutrono sospetti sulle cause della morte di Vittoria Manuali che era deceduto in casa il 27 marzo sembrava una morte naturale però certe cose non riquadrano insomma gli inquirenti ora dispongono l'autopsia per accertare veramente se la signora è morta per cause naturali oppure dietro c'è qualcos'altro forse un omicidio colposo come intitola il giornale a Colle Marino il poliambulatorio raccoglie mille firme per dire no alla chiusura non è il poliambulatorio ovviamente che le raccoglie ma è l'oggetto della raccolta delle firme perché questa è una struttura molto importante dal punto di vista sanitario ad Osimo più allunni iscritti alla Krieger lotta per gli spazi tra le scuole a Marcerate invece il piano ferie non soddisfa l'utenza negli ospedali causa un braccio di ferro tra l'Aste l'azienda sanitaria territoriale e i sindacati i quali denunciano carenza di personale un po' una carenza che si dilaga e dilaga in tutto il territorio marchigiano a Tolentino invece l'Avis si pone in festa pronti a premiare 137 donatori dal cuore grande sono i donatori dell'Avis, i donatori che danno il sangue e salvano la vita lo fanno gratuitamente, lo fanno con costanza e quindi dedicano veramente un'intera vita per così venire in soccorso a coloro che hanno bisogno a Civitanova il bilancio comunale sotto la lente copia e incolla tra documenti intitola il resto del Carlino mentre poi un altro articolo riguarda la drammatica vicenda di Rigopiano dove una valanga sommerse una struttura albrigliera causando la morte di tante persone che erano all'interno ebbene a Rigopiano si è verificato un sit-in dei familiari delle vittime che ancora rivendicano la giustizia piena così appunto richiama la prima pagina del resto del Carlino e vediamo anche le province di Ascoli e di Fermo ad Ascoli le sfide del turismo crescono gli stranieri ma è un rebus per quanto riguarda i collegamenti di questa bellissima città incastonata in un paesaggio bellissimo delle Marche però deve essere messa in collegamento con altre località a Porto Sant'Elpidio minacciato in casa per un debito di coca tre le denunce mentre a San Benedetto del Tronto si è stato l'addio all'ex consigliere comunale Mario Ballatore aveva 51 anni ed è deceduto troppo troppo presto apriamo il giornale vediamo la festa della Repubblica la festa del 2 giugno qui vediamo delle belle immagini scattate a Pesaro qui vediamo la prefetta Saveria Greco che passa in rassegna i vari reparti schierati nella piazza abbiamo non soltanto i reparti militari ma abbiamo la protezione civile i vigili del fuoco tutti coloro che si prestano nei momenti di emergenza e allora vediamo cosa ci dice il giornale parla di tutta la cerimonia che si è svolta prima all'aperto in piazza poi all'interno di Palazzo Ducale sede della prefettura celebrazioni a Pesaro del 78esimo anniversario della Repubblica ebbene davanti al picchetto Interforze la prefetta ha salutato i laberi dei comuni e delle associazioni combattentistiche ed arma con accanto il comandante del 28esimo reggimento Pavia Antonio Di Leonardo prima c'è stata l'alza bandiera momento sempre molto molto emozionante e poi c'è stato lo srotolamento delle bandiere da parte dei vigili del fuoco sulla facciata di Palazzo Ducale insomma un esercizio acrobatico che è di grande spettacolarità che ha appunto corredato questa manifestazione e poi il prefetto cosa ha fatto? ha letto il messaggio dato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la cerimonia ha avuto seguito nel salone metaurense del Palazzo Ducale con la consegna di 13 benemerenze al merito del Repubblica e sulle giornali ci sono poi i nomi di coloro che sono stati nominati i cavalieri per quanto riguarda questa occasione e poi abbiamo anche sul giornale le altre celebrazioni che si sono tenute a Macerata a Dancona ad Ascoli a Fermo insomma nelle altre province il Comune il Comune ma torniamo a Pesaro il Comune rimborsa le tasse alle nuove ditte sono le ditte le start-up ovvero le ditte che hanno avuto un inizio da parte dei giovani i quali ricevono questi sostegni per essere incentivati a proseguire nella loro attività e anche un premio per la loro intraprendenza riguardano le imposte locali cioè l'Imu l'addizionale IRPEF la TOSAP l'importante è avere meno di 40 anni e i fondi verranno erogati fino ad esaurimento i benefici economici previsti riguardano dicevo il rimborso dei tributi locali quali quelli che ho già menzionato in pratica per il 2023 sono abbastanza abbastanza congri questi sostegni non verranno dati i contributi però agli ambulanti ai comprooro e agli stagionali ci vuole qualcosa un pochino di più socialmente utile e di più stabile per ricevere questi contributi e poi abbiamo una protesta una protesta che viene elevata da Giorgio Razzi candidato della lista civica civici per Pesaro il quale interviene sollevando una critica c'è un cartello che indica come un parcheggio vicino all'hotel Charlie sia riservato ai clienti dell'albergo ebbene quel cartello è abusivo in quanto farebbe riferimento ad una ordinanza che era stata emessa il 27 aprile del 2024 una ordinanza che era scaduta e quindi quel parcheggio deve essere reso fruibile a tutti questa è appunto la nota che evidenzia Giorgio Razzi morte sul lavoro Prefettura chiama mercoledì un incontro tra sindacati industriali e organismi di controllo è stato convocato per mercoledì prossimo al tavolo tecnico della Prefettura di Pesaro un tema un incontro su un tema importante salute e sicurezza si farà il punto soprattutto sul tragico incidente sul lavoro che lunedì scorso è costato la vita a Simone Mezzolani di 33 anni e si cerca un po' di fare di tutto perché queste cose non accadono di più purtroppo si ripetono puntualmente nonostante che ci siano ancora normative nonostante le proteste dei sindacati nonostante una cresciuta sensibilità intorno a questo problema che purtroppo continua a mettere molte molte vittime queste riunioni almeno serviranno per acquisire maggiore consapevolezza e maggiore coscienza di quanto sta avvenendo e veniamo a questa grande apertura che il resto del Carlino riserva a Don Giacomo Don Ruggeri Afano incontra cento parroci il Vescovo Andreozzi avrà un incarico all'interno della diocesi tenendo conto che abbiamo un vasto territorio e pochi sacerdoti e noi crediamo che Don Giacomo torni a costruire quello che ha costruito anche in passato ovvero tanta fiducia nei giovani a parte a parte quello che è accaduto che non deve essere dimenticato ovviamente ma che non può essere così posto come una pietra su un cammino che poi diventerebbe invalicabile questo è un po' il sentimento di molti nei confronti di questa situazione e poi diamo un'occhiata anche all'articolo un grande successo ottenuto dal concerto organizzato dall'associazione del poderino che ha organizzato nel parco giochi di via Piemonte quel parco che spesso è oggetto di episodi di tipo trasgressivo di vandalismi di dispetti di situazioni insomma di turbative dell'ordine pubblico ebbene questa associazione ha imboccato la via giusta non è giusto continuare con la repressione del resto si ottiene poco con la repressione invece con insistere sul lato sociale sul lato del coinvolgimento dei giovani su queste iniziative li si avvicina ad un progetto di comunità educante che l'associazione persegue con grande impegno quindi brava l'associazione grande il successo ottenuto e finalmente anche il poderino può disporre di un sostegno che è di carattere di integrazione e di inclusione di tutti insomma di ragazzi di anziani e di persone adulte bella questa iniziativa e allora passiamo al Corriere Adriatico passiamo al Corriere Adriatico vediamo la prima pagina insieme per superare ogni sfida è la grande fotonotizia che evidenzia la cerimonia del 2 giugno che si è svolta ieri a Pesaro in Piazza del Popolo e poi in Prefettura nuovi ufficiali e cavalieri Viale Trieste spariti i parcheggi scooter sui marciapiedi e beh se spariscono i parcheggi qualcuno deve qualche cosa qualche spazio bisogna trovarlo per parcheggiare le due ruote e qui comunque ci sono delle polemiche sempre a Pesaro buongiorno difenderà la coppia arrestata per la froda e fiscale chi è buongiorno? è l'avvocata buongiorno parlamentare membro della commissione giustizia che è stata assunta dalla coppia oggetto di accuse da parte della guardia di finanza per quanto riguarda un giro che ha investito tutta Italia ebbene la coppia ha assunto una delle avvocate di grido a livello nazionale a San Lorenzo in campo a San Lorenzo in campo niente colonia marina per due bambini con disturbi autistici e i genitori insorgono insomma si parla tanto di inclusione si parla tanto di sostegno ai bambini in modo particolare che sono in situazioni critiche e poi li si esclude dalle colonie dai viaggi dalle gite insomma veramente è una situazione da ponderare molto molto bene poi abbiamo anche un richiamo per quanto riguarda gli scavi archeologici che si stanno compiendo in piazza Andrea Costa a Fano sembrava che ormai tutto fosse concluso si stava ricoprendo tutta l'area in cui erano emerse strutture romane ma anche strutture di carattere alto medievale ebbene nel momento in cui si stavano praticando gli ultimi scavi per quanto riguarda le tubazioni idriche che cosa accade accade che vengono fuori nuovi reperti un muro alto un metro e venti centimetri risalente all'epoca romana e poi anche alcune gemme anzi una gemma diciamo di questo non possiamo esagerare una gemma di corniola incisa con la figura di un fauno ne abbiamo parlato anche alla fine della settimana scorsa ma ora bisogna decidere il da farsi ricoprire veramente il tutto ebbene lì sotto c'è un grande interrogativo vediamo quali sono gli elementi che lo compongono innanzitutto i mattoncini che sono stati usati per costruire questi muri sono gli stessi che sono stati ritrovati in via Vitruvio e all'interno dell'area archeologica di Sant'Agostino dove ci sono veramente degli edifici pubblici allora probabilmente sarà un edificio pubblico anche quello che c'è in piazza Andrea Costa siamo vicini al foro della città l'antico foro di Fanon Fortune ovviamente era la zona centrale dove sorgevano edifici pubblici e chissà che anche lì non ci sia il sospetto che ci sia la basilica di Vitruvio anche se al momento colonne non sono state trovate ma se non si fanno delle indagini a tappeto se non si dà seguito alle parole che evidenziano l'epoca romana come un portabandiera della nostra economia turistica se non si dà veramente concretezza a quanto si dice ebbene il mistero rimane e quello che è veramente sotto il selciato di piazza Andrea Costa rimarrà sì conosciuto per aspetti singoli ma non nella sua interezza e quindi non si saprà cos'è veramente quello che si nasconde là sotto e allora apriamo il giornale passiamo alla pagina di Fano ecco qua l'articolo che riguarda gli scavi di piazza Andrea Costa emergono nuovi tesori reperti murari e una pietra in corniola eccola qua questa bellissima pietra e poi a fondo pagina abbiamo l'iniziativa della Tecfem una delle maggiori ditte della zona industriale di Bellocchi che opera nella sfera della ingegneria e del project management che ha così aderito al progetto di mobilità dolce che è anche perseguito dall'amministrazione comunale che cosa vuol dire questo vuol dire che la ditta ha realizzato tutto un sistema di sostegno ai ciclisti che vorranno raggiungere il loro posto di lavoro in bicicletta con spogliatoie docce a loro dedicati con una big station per il deposito delle bici con attrezzature di gonfiaggio di attrezzature minime per una normale manutenzione insomma anche la Tecfem poi oltre a fare questo ha anche sottoscritto un protocollo con altre aditte che si sono poste sulla stessa linea per così cercare di sostenere la mobilità semplice e siamo in conclusione per cui non mi rimane che segnalarvi soltanto la presentazione delle liste del Movimento 5 Stelle questo schieramento parte da lontano ha detto la portavoce del Movimento e anche il candidato sindaco Stefano Marchigiani e questo è tutto per il momento vi do appuntamento domani alle 7 grazie per l'ascolto e a risentirci grazie per la visione